Mauro Lami, presidente regionale dell'Associazione Papà Separati Liguria. Signor Lami, lei è uno dei fondatori di questa associazione che ha sede a Genova, ma che ha poi anche realtà a Sabona e alla Spezia. Le chiedo, come nasce la sua associazione? Allora, intanto buongiorno. L'associazione nasce davanti a un boccale di birra. Eravamo quattro amici al pub e in quel momento lì abbiamo deciso di mettere a frutto le nostre esperienze negative per cercare di aiutare altri genitori separati, ma soprattutto dare una mano ai figli che vengono triturati durante la separazione. Era il 22 di dicembre del 2008, quindi questa associazione nasce sotto Natale, dieci anni fa. Il fatto che fosse in prossimità delle feste è qualcosa che ha motivato e fatto scaturire questa necessità? Sì, proprio perché in quel momento eravamo tutti quanti senza i figli, cioè sapevamo che avremmo passato le festività senza i figli. Questo qui ci ha fatto partire un po' di rabbia benefica, nel senso che abbiamo messo a frutto il nostro dolore e abbiamo deciso appunto di dar vita a questa cosa. Sinceramente non pensavo, non pensavamo di arrivare a creare una realtà come quella che abbiamo creato, perché appunto siamo partiti in quattro, siamo oltre 600 in tutta la Liguria, ma soprattutto poi abbiamo una marea di contatti, perché nella nostra rubrica abbiamo oltre 4.000 contatti di persone, genitori, padri e madri, nonni che si sono rivolti a noi per avere un supporto. e 4.000 persone che in qualche maniera gravitano intorno a noi è un peso notevole. Il fatto che un genitore è separato, perché a questo punto nasce come papà separati, ma si sviluppa e poi accogliete evidentemente anche le mamme. Questo bisogno di confrontarsi con qualcuno, da che cosa dipende innanzitutto? Dalla mancanza, diciamo, della quotidianità con i figli o c'è anche qualcosa che va al di là e quindi parliamo anche del rapporto con l'altro coniuge? Allora, partiamo dal presupposto che noi abbiamo un sistema sociale e giudiziario che non funziona. Questo fa sì che uno quando si trova ad affrontare questa esperienza non ha nessun tipo di aiuto, se non associazioni come la nostra. perché uno, se è un padre che si rivolge ai servizi sociali rischia di non essere ascoltato, se si rivolge ai giudici si sente poi alla fine messo da una parte e considerato semplicemente un babbo mat. Per cui queste cose qui fanno sì che ci sia la necessità anche di, diciamo che noi diventiamo un punto in cui raccogliamo il dolore, raccogliamo le esperienze e poi cerchiamo di metterle a frutto. Non siamo semplicemente un punto dove venire a piangere, perché poi noi questo cerchiamo di crearne poi qualcosa. Voi siete comunque sempre aperti, se posso usare un termine, sempre raggiungibile in qualche modo? Sì, il nostro telefono è pronto genitore 333 695 695 2, è un numero anche abbastanza facile da ricordare, è un numero telefonico aperto praticamente 24 ore su 24. C'è una segreteria telefonica dove siamo in zone coperte, entra automaticamente in funzione. L'appello che faccio, se qualcuno ha dei problemi di chiamare senza nessun problema, noi non facciamo dei miracoli, ma sicuramente ascoltiamo e possiamo dare le indicazioni per non commettere degli errori che possono essere molto più gravi di quanto non si pensa. E a proposito di azioni gravi, lei ci teneva a ricordare Ethan? Sì, Ethan è il figlio di un nostro associato, Ivano. Noi lo conosciamo, lo conoscevamo da quando aveva 6 anni, a quasi 14 anni ha deciso di porre fine alla sua vita in una maniera veramente tragica perché lui voleva stare con il padre, la madre a quanto sembra lo steggiava in molti modi e per quanto ci hanno raccontato aspettato il momento del rientro della madre e si è gettato da un terrazzo guardando la madre negli occhi. e questo c'è proprio dalla misura della disperazione che questo ragazzino viveva. Il problema è che appunto, legandolo anche al libro, nel libro poi si capiscono tutte queste dinamiche, per fortuna, è successo una volta e ci auguriamo che non succeda mai più. Noi abbiamo una scia di lutti perché abbiamo Ethan ma abbiamo altri 4 nostri soci che hanno deciso di porre fine alla loro vita proprio perché erano separati dai loro figli. i mariti, le mogli vanno, vengono, ma i figli sono una cosa che rimangono per sempre.